Ci sarà anche Zaka, la goletta in legno appartenuta all'attore hollywoodiano Errol Flynn, costruita in California nel 29 e la tredicesima edizione del raduno delle storiche via Reggio, che dal 12 al 15 ottobre chiuderà la stagione 2017 dedicata alle imbarcazioni a vela d'epoca e classiche. Lunga a 43 metri, larga a 6,90 metri, la goletta fu adibita inizialmente a spedizioni di carattere scientifico nell'Oceano Pacifico, nel 46 venne acquistata Errol Flynn che ne fece la sua dimora galleggiante. L'anno successivo divenne set galleggiante per girare le riprese del film La signora di Shanghai, di Orson Welles, con Rita Hayworth, poi navigò tra la Spagna e la Costa Azzurra finché nel 91 venne rilevata da un nuovo armatore che le fece fare base a Monte Carlo. Attesa a via Reggio anche la goletta di 50 metri Orion del 1910, tra le tipologie di imbarcazioni 5,50 metri stazza internazionale, l'ex classe olimpica nata nel 49. Nei tre giorni dell'evento si affronteranno anche temi di carattere culturale legati alla nautica e alla marineria, tra questi la presentazione di un libro e di alcune iniziative intraprese recentemente dal Sodalizio. Attesa una flotta di oltre 40 imbarcazioni in legno costruite tra i primi del Novecento e gli anni Ottanta, progettata dai più famosi architetti navali del mondo. Tra le iniziative è riconfermata la grande cena per gli equipaggi di sabato sera, 14 ottobre, presso il cantiere Via Reggino del Carlo.